Il luogo comune sulla Svezia è che sia un paradiso di imparzialità e non belligeranza, ma arrivando a Kalskrona, nel sud del paese e al centro del Mar Baltico, la vibrante fortezza, con i suoi secoli di storia, racconta qualcosa di diverso. La distanza aerea con la russa Kaliningrad e le testate nucleari dislocate da Mosca è di soli 348 chilometri. L'arcipelago antistante alla base navale spiega i motivi per i quali Carlo XI decise di fondarla. Oggi Kalskrona con la contea di Blekinge sono sede anche di una base aerea e hanno una posizione geostrategica che una volta parte del sistema difensivo della Nato potranno offrire una significativa centralità sul Baltico. Annika Emblom, presidente del Consiglio Atlantico-Svedese e già parlamentare per i moderati. All'inizio nel Parlamento svedese c'erano pochissimi partiti che sostenevano l'adesione alla Nato, ma sono diventati sempre di più e ora sono la maggioranza. Abbiamo visto l'invasione illegale e totale della Russia in Ucraina due anni fa. L'opinione pubblica e l'opinione politica, nonché la percentuale dei partiti, sono cambiate da un giorno all'altro. E insieme a ciò, naturalmente, è arrivata anche la consapevolezza del popolo svedese su quale sia la posta in gioco. Un sondaggio ha mostrato un chiaro e evidente sostegno da parte degli svedesi per l'adesione all'Alleanza, che nonostante le numerose difficoltà incontrate sul cammino, a differenza della Finlandia, il paese vuole con sempre più convinzione. Il Consiglio Atlantico-Svedese è stato fondato nel 1996 con uno dei suoi obiettivi principali, promuovere l'adesione della Svezia alla Nato, ed è presieduto da quattro anni da Englom, che per altri 16 anni in Parlamento si è battuta per l'adesione.